Continuano ad aumentare i casi di Covid. Ecco la curva epidemiologica nazionale delle ultime due settimane. Sono 571 oggi nuovi casi in Abruzzo, quasi il 16% dei 3616 test processati nelle ultime 24 ore. Riguardano persone d'età compresa tra 10 mesi e 101 anni. 140 sono della provincia dell'Aquila, 111 di quella di Chieti, 46 del Pescarese e 253 del Terramano, mentre 4 provengono da fuori regione e per 17 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 265 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 577, d'età compresa tra 64 e 100 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Terramo, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti. Le attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale il numero dei guariti e dei deceduti sono 8.264 più 232 rispetto ieri. 458 pazienti più 31 rispetto ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 36 in variato rispetto ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 7.770 più 201 rispetto ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.